In Toscana violenza di genere significa 101 donne uccise in 10 anni, dal 2006 al 2016, ma anche 16.686 ragazzi e ragazze, oltre 12.000 dei quali minorenni, che tra 2009 e 2017 hanno visto le proprie madri subire violenze tra le mura di casa e 1.921 bambini vittime a loro volta di maltrattamenti. E forse si tratta solo della punta dell'iceberg sviscerato dal nonno rapporto sulla violenza di genere in Toscana, presentato in occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne nella sede della presidenza regionale di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, davanti a una platea gremita. Il quadro tracciato dal rapporto illustrato dai ricercatori e dagli esperti presenti dipinge una regione in cui sempre più le donne vittime di violenza denunciano i propri aguzzini, che nell'83% dei casi sono partner o ex-partner. L'emersione e il coraggio di denunciare, certo, vanno letti in positivo, di contro però c'è che i numeri sono ancora troppo alti. Dal 2009 al 2017 sono state 18.939 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza toscani, 3.000 solo nell'ultimo periodo di riferimento, tra luglio 2016 e giugno 2017, cioè il 22,5% in più dell'anno precedente, il numero più alto finora registrato. Questi sono ancora dati troppo pesanti anche per una regione come la regione toscana. Noi ci siamo attrezzati, ci stiamo attrezzando da molto tempo per la parte che riguarda le mie competenze, quindi le politiche sanitarie e le politiche sociali, ci stiamo attrezzando perché ci sia una rete sempre più organizzata per fare da aiuto, sostegno e scudo alle persone, ai soggetti deboli che siano stati oggetto di violenza. Per questo in questa regione siamo partiti con il Codice Rosa, che adesso è diventata un'esperienza nazionale, anzi anche internazionale, e l'abbiamo trasformata da progetto a rete. Cioè il Codice Rosa non si ferma alla porta dell'ospedale, ma coinvolge tutta la rete dei centri antiviolenza, che si occupano poi della parte, diciamo così, di assistenza e di presa in carico della donna nel momento in cui esce da un percorso in qualche modo protetto, che è quello del pronto soccorso e dell'ospedale. Una rete impegnata a fronteggiare un fenomeno sempre più pressante, se a fronte delle 10.219 donne adulte che sono state assistite dal Codice Rosa tra 2013 e 2017, 2.577 sono quelle registrate solo nell'ultimo anno e anche tra le minorenni il dato è inquietante, 1.136 accessi in quattro anni. I sensori che captano questi segnali sul territorio, è stato spiegato nel corso della mattinata di presentazione in regione, sono proprio i centri antiviolenza, i centri per uomini autori di violenze attraverso lo specifico applicativo VGRT, i punti Codice Rosa, il centro di riferimento regionale di Careggi, il centro di documentazione dell'Istituto degli Innocenti e l'archivio regionale per le prestazioni consultoriali. Insieme, i dati riuniti dall'osservatorio sociale regionale della Toscana mostrano che il germe alla radice della piaga sociale della violenza è anzitutto culturale. È un tema di prevenzione e la prevenzione sicuramente passa dall'educazione. Il tema della violenza sulle donne è un tema che riguarda la nostra cultura e è necessario un grandissimo cambiamento, una svolta, una svolta culturale che parte dall'utilizzo di stereotipi di genere, un utilizzo che viene sin dalla prima infanzia, basta a volte sfogliare i libri per i bambini e si vedono appunto come vengono trattati in modo diverso la figura maschile e quella femminile. I ricercatori che hanno presentato il rapporto hanno spiegato che questi stereotipi producono effetti drammatici di cui fanno le spese non solo le donne maltrattate, ma anche i minori che spesso, dopo un episodio di violenza, si ritrovano completamente soli. Il CISMAI, che è il centro di coordinamento dei servizi sugli abusi e maltrattamenti sull'infanzia, nel 2017 ora ha rivisto le sue linee guida sulla violenza assistita, cioè la violenza che il bambino vede all'interno delle proprie mura domestiche e che l'ha ritagliata sempre di più su quella che è la violenza sulla madre, perché appunto in seguito a 101 donne uccise ci sono 34 orfani speciali, cioè bambini che hanno ragazzi che hanno perso la propria madre perché uccisa dal padre, ma sono diventati così anche orfani di padre appunto data la situazione. Dalle pagine del rapporto emerge che le violenze non sono solo fisiche, ma anche psicologiche ed economiche, e che sempre più importante è avere una rete di soggetti schierati in trincea su tutto il territorio regionale per sostenere chi ne è vittima. Anche per questo la ricerca si è avvalsa di un lungo percorso che la regione ha portato avanti con Anci in tutta la Toscana. Abbiamo fatto nel corso di questi mesi tantissimi incontri sul territorio, abbiamo incontrato oltre 200 operatori, anche diciamo così non solo operatori, ma sia tecnici che politici, e abbiamo verificato quelle che sono appunto le reti territoriali. Ci sono reti molto solide, che però dal punto di vista appunto della ricerca devono essere omogeneizzate, nel senso che all'interno della regione vengono fatte tantissime azioni, però ogni territorio appunto ha una modalità operativa diversa. Quindi il lavoro diciamo così che noi abbiamo fatto è quello di suggerire anche in futuro una maggiore omogeneità. Obiettivo dichiarato del rapporto dunque ideare strategie per combattere i comportamenti violenti. Tra i dati rilevati ci sono anche gli 89 accessi registrati tra 2016 e 2017 nei quattro centri per uomini autori di violenza. Di questi ben oltre la metà, 67, sono italiani. Tre quarti dei femminicidi sono commessi da italiani e l'83% sono commessi nell'ambito dei rapporti familiari. Credo che la violenza sia banalmente violenza, che non abbia razza, non abbia colore, non abbia orientamento religioso. Bisogna ragionare in questi termini, altrimenti potremmo assistere a una sorta di derubricazione della violenza che certamente non è quello che noi vogliamo. Per tracciare il quadro toscano del contrasto alla violenza di genere, gli autori della ricerca hanno preso in considerazione anche gli accessi alle case rifugio a indirizzo segreto in cui la donna, vittima di violenza, è messa in sicurezza da sola o insieme ai propri figli. Queste strutture, disseminate sul territorio regionale, sono aumentate nel 2017, passando a 20 dalle 18 del 2016 e dalle 10 del 2013 e portando la capacità ricettiva a 158 posti letto, 78 dei quali destinate ai minorenni. Stiamo sostenendo fortemente i centri antiviolenza e le case rifugio. È sicuramente un tema di reinserimento delle donne vittime di violenza nella società e nel mondo di lavoro ed è per questo che una parte delle risorse che sono arrivate nazionali ma anche delle risorse regionali sono state destinate ad azioni proprio di reinserimento delle donne nel contesto di lavoro. Un reinserimento spesso reso ancora più difficile dalla perdita di legami che si aggiungono al dramma della violenza in sé, soprattutto per le donne che non sono italiane. La maggior parte delle donne si rivolgono a centri è italiana nel 69% dei casi e il dato non è cambiato nel corso degli anni, però vi sono anche le donne straniere le quali molto probabilmente nel momento in cui denunciano una violenza che avviene sempre ad opera del partner o del marito perdono un legame con tutta una comunità e una rete di sostegno e quindi molto probabilmente per questo loro sono più presenti all'interno delle stesse case rifugio. La presentazione del rapporto a Firenze è stata anche l'occasione per fare il punto sulle tante forme che la violenza assume e di cui fanno le spese direttamente o indirettamente i bambini. Secondo il centro di documentazione dell'Istituto degli Innocenti tra 2014 e 2016 quelli colpiti dalla violenza assistita, cioè il dramma di vedere la propria madre maltrattata sono passati a 1.298 dal 968 del 2014, mentre sono stati quasi 2.000 i piccoli che in Toscana solo nell'ultimo anno hanno subito maltrattamenti, numeri che hanno già reso necessarie azioni di contrasto e sensibilizzazione ad ampio raggio. Noi abbiamo sostenuto fortemente il numero verde 1522 perché già quella è una svolta culturale, cioè le donne non devono aver paura di denunciare. Infatti molti dei dati che sono stati presentati oggi sono dati che mettono in luce una forte emersione, quindi una maggiore forza delle donne nella denuncia. Poi lavoriamo con le scuole, abbiamo appunto un protocollo di intesa con l'ufficio scolastico regionale per dei corsi all'interno delle scuole, corsi che quest'anno li abbiamo rivolti agli insegnanti e al personale ATA della scuola. Soluzioni e programmi discussi nel corso di una tavola rotonda per portare avanti una battaglia che è culturale ma anche sociale e sanitaria perché le 596 donne che nel 2016 hanno chiesto aiuto ai consultori sono ancora tante, troppe. Da qui gli investimenti pianificati dalla Regione Toscana con 866.789 euro per finanziare nuove case rifugio, sportelli di ascolto sul territorio e case di seconda accoglienza di cui si sente forte il bisogno. La Regione Toscana sta investendo molto, oltre alle risorse che ci arrivano dallo Stato, investiamo anche noi risorse importanti proprio perché riteniamo che questa sia una battaglia sacrosanta e che sia una battaglia di civiltà, non per le donne ma per la crescita della nostra comunità perché un luogo dove si rispettano le donne è anche un luogo dove si rispettano le diversità, dove si rispettano gli altri, dove c'è una cultura diversa, una cultura del rispetto dell'altro, una cultura della collaborazione e della solidarietà. Grazie.